Stati Uniti in lutto per la morte di George Bush, padre, ultima grande figura di un'epoca storica ormai alle spalle. Sentiamo Andrea Rustichelli. Repubblicano Doc, nato nel Massachusetts, un glorioso passato militare, era stato il più giovane pilota della US Navy, poi petroliere texano, George Bush Senior è espressione dell'America conservatrice che nel transito dalla guerra fredda cercava una nuova leadership globale. E' scomparso ieri sera, a 94 anni, da anni soffriva del morbo di Parkinson ed era costretto su una sedia a rotelle. La sua morte sembra per un attimo riunire le anime scisse degli Stati Uniti. Già vicepresidente a fianco di Ronald Reagan, Bush Senior è stato il 41esimo presidente dal 1989 al 1993, gli anni della prima guerra del Golfo tra il 90 e il 91. Un patriota e un umile servitore, così lo ricorda con gratitudine Barack Obama, quasi a rimpiangere la statura di una personalità che pur dalla parte avversa sapeva rappresentare la nazione. Quanto a Donald Trump, dal G20 di Buenos Aires, scrive di Bush, ha ispirato generazioni di americani. Tra le tante parole di cordoglio e rispetto arrivano anche quelle significative del collega Gorbachev, che lo definisce un vero partner, era un periodo drammatico, ricorda l'ex presidente dell'URSS, che richiedeva grande responsabilità da parte di tutti.